È il frate Antonio che guarisce, quello riprodotto nello straordinario dipinto simbolo del giugno antoniano 2021, che ritrae il miracolo con cui il santo riattacco il piede al padovano Lorenzo, quello che sarà portato quest'anno lungo le vie e le acque della regione che lo ospitò in vita e dove il 13 giugno 1231 lo colsi sorella morte. Due straordinari pellegrinaggi delle reliquie di Antonio scandiranno il ritmo di una giornata di festa e rinascita in un momento ancora assegnato dalla pandemia che le telecamere di Rete Veneta, emittente del network Media Nord-Est, accompagneranno nelle vostre case, diventando strumento di quel miracolo che il mese di giugno ripete ogni anno, la gioiosa devozione in questo uomo santo vicino alla gente. La Basilica sarà aperta alle 5.30 del 13 giugno e il compadre Olivero Svanera, rettore e custode della memoria di Antonio, anche noi apriremo questo giorno di festa. In mattinata poi seguiremo la peregrinazio della Basilica della Salute a Venezia, da cui per la prima volta uscirà diretta al santo la reliquia dell'avambraccio di Antonio, lì custodita dal 1652. Accompagnata dal patriarca Francesco Moraglia, la reliquia viaggerà lungo il Canal Grande e poi via terra per toccare luoghi simbolo, l'ospedale all'angelo e quello di Dolo, per poi arrivare a Padova sul sagrato della Basilica. Qui la reliquia resterà per sette giorni. Nel primo pomeriggio la tradizionale statua processionale di Antonio uscirà per benedire luoghi altamente simbolici di Padova, il comando delle forze operative Nord, il carcere, la camera di commercio e il comune per rientrare per la celebrazione ocaristica delle 17. Venezia unita a Padova dalla devozione in questo santo così amato dalla gente veneta e da tutto il mondo, in una solenne benedizione di salute che grazie ai frati e attraverso il lavoro degli uomini e delle donne del network Media Nord-Est potrà arrivare a quanti la desiderano. Una giornata di festa preceduta da una tappa del giugno antoniano, il concerto del pianista Giovanni Allevi dalla Basilica del Santo, trasmesso in diretta venerdì 11 a partire dalle 21 su Rete Veneta.